Ufff Sai che non so Proviamola Cos'è sto lag? Anche a te è tipo lag alla schermata iniziale? Sì, sì, siamo morti Concisione confermata Proprio di fame Usano il pappen Il pappen è la better fitness Sono già qua eh C'è uno Siamo prevalento Devo andare là però Nico Buona Marti Usa l'alleato la conferma Bravo le ali Sì Nico Scrono F Eh Uno Buona Marti Buona Marti Buona Marti Dico mi serve una mano, c'erano due Ehm Uccisione Però sono gli aliati con quello Sto arrivando io Ah percato da dietro E' morto E' morto Di sotto Di sotto Di sotto Di sotto Da sotto E' morto Non c'erano due 63 Ok, mi è scomparso Mi è scomparso Guarda che confermo C'è ancora uno campionato lì Lo pusho No Mi metti caverde Arriva, arriva lì qua Torno, torno, torno Coraccia rimasta Cannoniera pronta Ostile eliminato Beh, mi credo Non ciò che non ha avuto Molto giusto Molto giusto Molto giusto Pronta Per cento di tempo rimasto Versaglio cancellato Stile Versaglio a terra No, ero in serie 28 28 Ero Instancabile Vabbè, fre Aspetta, vengo da te O non c'è il cannoniera Così non posso sconchilare Il bustino No, fre Mi viene a distruggere il filo Ok, preso Mi sdraio qua Eh Da, mi Niente In avanti Dacom, cannoniera Autorizzazione Cresce No, vabbè, il verbo non è pronto ad aprire il fuoco Nemico, nient'altro Postile eliminato Presa che quei due non li vedremo più Niente No, vabbè, il fuoco Vabbè, utile, ragazzi, che pusheremo a io, non ho No Poverto Lui crash, chiedo una squadra di droni Terminato Sistema di bypass medico pronto Sistema di bypass medico pronto D'involezza Perfetto Per la squadra di droni Vai per 5, 7 al 50% Nemico, nient'altro Perfetto, tre eliminati La vittoria è vicina. Manca pochissimo. Un ucciso. Combattente terminato. Versaglio massacrato. Minaccia a rinforzare. Assegno. Allai per 5-7. C'è stato disfugato. Nemico annientato. Postile eliminato. Ho un pacchetto assalto. Assegno. Ant-1-3, rientriamo per il rifornimento. Confermato Ant-1-3, alla prossima. Attivazione, se non ne dubitavo. Ben fatto. Eh, cosa vi devi dire? Che questa va su YouTube. Beh, è la miglior partita fino ad ora. Ho usato le stricche, ma è la miglior partita fino ad ora. Io per quello ho pochi nuker, preferisco per giocare con... Le killstreak. This is... Smugare 99. 1,2-1... No,